A noi abbiamo la fortuna di avere proprio di fronte alla nostra struttura un terreno comunale, sono 3.700 metri quadri, che da sempre è lasciato a se stesso e quindi è un'area in degrado questa in un quartiere residenziale quale è quello di Poggio Franco. Vorremmo che si costituisse una cooperativa di ragazzi normodotati e diversamente abili per la costituzione di un orto sociale. Un orto sociale, un orto urbano, sia per la produzione di ortaggi e fiori sia per la vendita. Io ci credo in questo progetto, ci vorrà del tempo, ma spero di realizzarlo. Si può fare tante cose. Innanzitutto aprire un tavolo tecnico è una discussione congiunta all'interno di un ufficio istituzionale. Mettere in mani al problema dell'accessibilità, della mobilità sostenibile, del turismo sostenibile e accessibile, integrazione scolastica, lavorativa. Ci sono milioni di proposte, però non si possono affrontare sempre in maniera a spot. bisogna creare un ufficio di tutela, bisogna creare un ufficio tecnico che discuta delle problematiche della disabilità e insieme provare a fare un passo avanti. Il garante per la disabilità a Bari figura essenziale. Realta Italia l'ha chiesto già due anni fa, ancora non c'è. Non è possibile avere Bari senza il garante per la disabilità, perché la disabilità genera turismo, genera attenzione sociale. Abbiamo in mente di dare gli orti urbani a chi già segue la disabilità e questo è un modo diverso di immaginare Bari. I prossimi cinque anni, anche per la disabilità, devono essere diversi a Bari.